Senza parole, si resta senza parole varcando il cancello dello stabile situato tra Largo Châtillon e Via Pacinotti a Vercelli. Nel cortile delle case popolari, dove vivono una trentina circa di famiglie, lo spettacolo è dei più desolanti si siano visti negli ultimi anni in città. Una vera e propria discarica di rifiuti, non ingombranti, bensì domestici. Dalla plastica all'organico, dalla carta all'indifferenziata, decine e decine di sacchi abbandonati sul prato. E i pochi cassonetti presenti, ne abbiamo contati 5 per la plastica e altrettanti per organico e carta, stracolmi. Rifiuti che da mesi giacciono sotto le finestre dei residenti, perché chi di dovere non si preoccupa più di tanto di rimuoverli. Vengono e svuotano solo i cassonetti, ci dice un ragazzo che abita nello stabile. Mi hanno detto che i rifiuti a terra non possono raccoglierli. Lo scorso anno, a nostre spese, abbiamo fatto pulizia, ma adesso non ci sembra giusto. Insomma, una situazione al limite della legalità e soprattutto al limite della decenza. Per non parlare delle possibili ripercussioni sanitarie. Oltre ai rifiuti c'è anche un ammasso gigantesco di rottami, frutto dei lavori svolti, probabilmente datici, nei mesi scorsi. Ferro, legname, materiali inerte. Un disastro. Storie di periferia anche a Vercelli, dove si mescolano degrado in civiltà e scarsa organizzazione. Tutti sono colpevoli, nessuno escluso, dei residenti al comune, fino all'azienda che viene profumatamente pagata dai contribuenti, con le tasse. Tutti colpevoli, nessun colpevole? Si dice il più delle volte così. Sarà pur vero, ma questa situazione deve essere risolta. Intervenga chiunque, si prende i meriti chiunque, ma ridate decenza a un quartile violentato dal degrado. Grazie mille. Grazie a tutti.